ciao a tutti amici ragazzi bentornati in questo video è stephgain che vi parla e oggi siamo pronti come la foto pubblicata su instagram abbiamo un po di roba questo le dici pacchetti questo da 6 e siamo a 16 e l'album da un pacchetto da due pacchetti e l'album quindi siamo 18 pacchetti stiamo ad aprire questo bello albonozzo a no abbiamo una specie di guida abbiamo i cosi abbiamo un barattino io qua abbiamo il nostro album andiamo a sfogliare molto bello molto ansioso e in più e in più cose che abbiamo qua due belli pacchettozzi da aprire andiamo con questo questo è il nostro pacchetto questo retro contiene un pacchetto 10 carte 10 pacchetti 100 carte spettare tirato fuori e nostri pacchetti e due tutti questi andiamo a mettere e cosa che manca manca questo sono a 18 e quasi 20 siamo a quasi 18 e quasi 20 siamo a quasi 20 20 pacchetti che bontà faccio l'album eccoci qua iniziamo col primo pacchetto il primo pacchetto vi faccio vedere che trovo il pacchetto non sarà un video buono via non sarà un video 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 che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere non sarà un video che è difficile da leggere ciao 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 ciao